Siamo agli spogliatoi, manca il voto disciplina per questa partita. L'adversario è 9. Noi anche di valore a 10 perché ci hanno dato due falli che non c'erano, ci hanno dato anche un rigore che l'albito non aveva visto. Quindi comportamento niente da dire. Penso che nessuna delle due squadre si è arrivata a più di 5 falli in due tempi. Questo è veramente un'osservazione molto bella. Quindi il voto è 9. 9 e me, 10. Vabbè, arrotondiamo 10. Bene, bravi ragazzi, complimenti, buona doccia.